Incendio doloso, minacce aggravate, porto ingiustificato di armi da taglio. Sono questi i reati contestati a un pugliese, Francesco Giovannelli, di 32 anni, e due albanesi, Gesim Uti, 38enne, e Jetmir Velia, di 22 anni, tutti residenti a Pesaro. Il terzetto, che vanta un lungo curriculum criminale, aveva pianificato un'aggressione nei confronti di una coppia, perché la settimana precedente una delle vittime aveva colpito con un pugno la sorella di uno di loro. E questo era uno sgarbo da vendicare. Inoltre, la fidanzata era la ex del fratello di uno degli albanesi. Così, nella notte tra venerdì e sabato scorsi, hanno dato fuoco all'abitazione in cui si trovava la coppia, in via Boiardo a Pesaro, ed erano pronti ad ulteriori azioni se non ci fosse stata una pattuglia delle volanti pronta a bloccare gli aggressori. È stato fondamentale l'intuito dei due operatori, che erano un uomo e una donna, questo tengo a precisarlo. Hanno scongiurato conseguenze ulteriori molto gravi. L'intervento della polizia è scattato dopo una chiamata da parte della ragazza, che ha segnalato un furto nell'abitazione. Una volta arrivati sul posto, gli agenti hanno constatato invece che il grosso botto che la giovane aveva sentito proveniva dalla stanza da bagno, dove il vetro di questa finestra era letteralmente andato in frantumi, ma a causa di un incendio. I poliziotti hanno infatti accertato che ad innescare il rogo è stato il terzetto, che poco prima si era introdotto nel giardino di casa e aveva lanciato del materiale infiammabile contro gli infissi. Il rogo, che a mano a mano si stava propagando all'interno, è stato spento grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco. E mentre gli agenti erano dentro la casa, è arrivata sul telefono della ragazza una chiamata da parte di uno dei tre soggetti, nella quale l'interlocutore le ha chiesto, con toni di sfida, se le fosse piaciuto il giochetto. I poliziotti, che hanno ascoltato in viva voce la conversazione, hanno suggerito al giovane di organizzare subito un incontro e consentire loro di nascondersi e appostarsi per un pronto intervento. Dopo circa dieci minuti è arrivato il gruppetto armato di coltello, che non si è accorto della presenza della polizia e che quindi è entrato nel giardino per affrontare il ragazzo. Ai primi tentativi di violenza, dopo averlo minacciato di morte, il trio è stato bloccato dalle forze dell'ordine. Indipendentemente dalla presenza delle forze dell'ordine, essendo appunto pregiudicati senza pudore, durante i momenti in cui venivano portati via continuavano a minacciare, dicendo anche che avrebbero fatto loro pagare questa situazione nel momento in cui sarebbero stati liberi. Due albanesi e l'italiano, che davanti al giudice hanno pure negato tutto, sono stati messi a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ne ha convalidato l'arresto e gli apposti ai domiciliari. Dimostrazione che ogni singolo poliziotto è in grado di svolgere attività sul momento e di operare degli arresti veramente importanti. Arresti di personaggi di questo calibro, con grossi precedenti penali.